Gianmarco, innanzitutto benvenuto nella famiglia Crotone, sei arrivato qui da pochi giorni, hai già avuto modo di allenarti con i compagni e sei stato in panchina a Parma, spiegaci queste prime giornate da calciatore rosso-blu. Intanto grazie mille, è stato emozionante venire qui ed è un piacere stare qui e mi sono trovato subito bene perché la squadra mi ha accolto bene, sono tutti compagni, sono persone molto brave, gente con cui mi hanno dato il benvenuto e mi sento molto carico e mi trovo molto bene in questa squadra e quindi spero possa andare per il meglio. Sei giovanissimo, però hai già avuto un'esperienza in Serie B lo scorso anno ad Ascoli, la Serie B è un campionato sicuramente duro, il Crotone attualmente è terzo-ultimo in classifica, cosa servirà per salvarsi da qui alla fine? Sì, di certo è un campionato difficile ma dobbiamo lavorare di squadra, dobbiamo allenarci bene giorno per giorno, sappiamo che comunque non è semplice ma deve essere un lavoro di squadra tutti insieme e lavorando si arriverà all'obiettivo. Hai visto all'opera i compagni da vicino a Parma, che impressioni hai avuto? Ho avuto impressioni positive di una squadra molto organizzata che sa quello che deve fare e questa è la cosa più importante, messa bene in campo, che è molto motivata nel fare bene e tutti quanti sanno che dobbiamo lavorare e continuare così come stiamo facendo nelle ultime partite per fare bene. Grazie per chiudere, un saluto ai tuoi nuovi tifosi Ciao a tutti i tifosi, è un piacere stare qui, un saluto grande Manuel, bentornato a casa, per te si tratta di un vero e proprio ritorno perché qui hai messo i primi passi e hai anche sordito in Serie B alla tenere età di 15 anni Sì, intanto grazie per il benvenuto, è un vero e proprio ritorno a casa Sono molto emozionato e ricordo bene l'esordio a Lezio Scida quando avevo ancora 15 anni quindi sono felice In questi anni hai accumulato tanta esperienza, ti sei messo in mostra nel Serie C soprattutto in questa prima parte di stagione col Foggia adesso sei pronto per dare una mano a questa squadra e per metterti ovviamente anche in evidenza Sì, dopo la primavera ho fatto un sacco di esperienze in Serie C che mi è servita sicuramente tanto e dopo questi sei mesi a Foggia dove ho fatto bene mi è arrivata la chiamata del Crotone e non ci ho pensato un secondo Hai 23 anni, compiuti da poco, quindi sei ancora giovanissimo Quali sono gli obiettivi di Manuel Nicoletti? Allora, gli obiettivi personali ora penso che tutti dobbiamo metterli da parte perché abbiamo un obiettivo di squadra che più che di squadra è della città e di tutta la regione del movimento calcistico, quindi l'importante è che la squadra mantenga la categoria Dopodiché vedremo, vedremo più in là, quindi questo Per chiudere, un saluto ai tuoi nuovi vecchi tifosi Sì, un saluto a tutti i tifosi del Crotone che molti sono amici, più di molti quindi un saluto e speriamo di vederli numerosi allo stadio perché io ricordo quando l'esercita spingeva era veramente difficile per le squadre avversarie venire a fare punti in casa nostra Ecco